Di padre in figlio Ricordatevi, ci sono solo due modi per fare le cose Il modo mio è il modo giusto E tutte e due sono la stessa identica cosa Da fratello a fratello Che cazzo è questo? Finico, sfascialo! Ci dobbiamo trovare un'altra sistemazione E tutti e tre soci alla pari? Sì Che si credono di fare? Grandezza, mo' cornuto! 44! 47! Non gli permettono forte a me! Sono un'investitrice Così le vuoi dare a me? Riconosco un buon investimento quando mi si presenta E 42! Venduto! Dall'acclamato attore John Turturro La straordinaria storia di tre fratelli Sei peggio di quel maiale di Hitler Io cerco di tenere insieme le cose Il solo che può far diventare i loro sogni in realtà Un film di John Turturro Premio Camerador al Festival di Carlo Medio dal produttore di Sesso, Bugie e Videotape Giàiği delle persone Grazie a tutti! Grazie.